il covid 19 e le donne vedete cari amici torno sul tema perché il tema io l'ho già affrontato ma ora lo stesso tema che io avevo già affrontato lo affronta anche io donna vedete io donna il pregiato settimanale del Corriere della Sera vedete quanto è bella io donna ecco allora qua in questo articolo si dice che il covid 19 attacca di più gli uomini che le donne le donne sono più attrezzate contro il covid 19 per cui io sin dagli esordi della sua apparizione avevo definito il covid 19 un virus gerontofilo perché va prevalentemente con gli anziani sì sì va anche con i giovani ma prevalentemente con gli anziani e poi l'avevo definito anche omofilo omofilo perché preferisce andare con gli uomini sì 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 va anche con le donne ma prevalentemente va con gli uomini omofilo omofilo vedete e qua si parla appunto delle donne che hanno una marcia in più hanno una marcia in più ma io penso che il pregiato settimanale io donna quando scrive questi articoli sul genere maschile il genere femminile eccetera dovrebbe dovrebbe conoscere questa mia opera storico mitologica perché io per l'appunto qua spiego le stesse situazioni ma le spiego sul piano storico capito sul piano storico vedete che bella quest'opera solo che io donna non la conosce non la conosce io donna qua ho spiegato che le donne e devono fare i bambini e per questo sono più forti degli uomini non sul piano muscolare ma sul piano vitale esistenziale immunitario immunitario e c'è anche e c'è anche una ricaduta positiva poi sulle donne si le donne fanno tanta fatica a fare i bambini fare i bambini c'è il matrimonio monogamico patriarcale che io la cui nascita io la descrivo molto bene qua e dentro il matrimonio monogamico patriarcale nascono i bambini e l'uomo partecipa col denaro non solo quello sperma partecipa ma col denaro l'uomo capito col denaro poi succede però che l'uomo l'uomo muore prima della donna sì 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 covid a parte perché il covid 19 ha creato tante vedove ma è sempre stato così che l'uomo muore prima della donna il marito muore prima della moglie per cui la moglie resta vedova e nell'occidente avanzato la vedova tira tira tutta la liquidazione del marito del marito quando ha lavorato eppure la pensione di reversibilità e il fatto è che di queste cose non si parla qua non si parla capito non si parla non si parla qua si fa vedere soltanto questa bella donna ma non si dicono queste cose e per cui queste cose e le dice serami filo massoni e il covid 19 vuole tanto bene alle donne perché 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 le trasforma in vedove e nell'occidente avanzato la vedova ripetita juan la vedova tira tutta la liquidazione del marito lavoratore che è morto e tira pure la la pensione delle versibilità va bene cari amici a tutti i tanti cari saluti da serafino massoni